Mi chiamo Alberto Paoletto e sono responsabile comunicazione per FSC Italia. Sicuramente dei contenuti interessanti, almeno per il mio lavoro, l'aver conosciuto delle persone nuove, quindi i contatti e poi la predittiva finale. Le informazioni che abbiamo ricevuto in questo corso Mignone sicuramente mi hanno permesso di vedere le cose o di pensare alle cose su cui lavoro in maniera differente, quindi magari non nell'immediato, però sicuramente troverò il modo di applicare le conoscenze che ho ricevuto oggi. Un'ottima formula è il fatto di concentrare in un paio di ore dei temi molto importanti con degli esempi anche pratici che uniscono la teoria, quello che è poi il lavoro di ogni giorno e quindi delle persone che seguono questi temi. Uno perché la formazione è sempre una cosa ottima e continuare a formarsi e informarsi sui temi su cui si lavora è sempre un'ottima cosa. Dopodiché c'è appunto la possibilità di networking con le persone che partecipano e che magari anche in maniera ispirata perché provengono da ambiti e settori completamente diversi l'uno dall'altro.